Fiere, congressi, meeting, ma anche eventi dei più grandi marchi italiani, set cinematografici e, in crescita soprattutto negli ultimi anni, matrimoni. Il centro espositivo Villa Erba ha compiuto nel 2016-30 anni e si presenta come una struttura polivalente in una location unica in cui si incrociano tradizione e modernità. Da una parte la Villa Storica, affacciata sul lago e immersa nel verde, dall'altra gli spazi più recenti, una costruzione in vetro e acciaio che si ispira al design delle vecchie serre lariane che può ospitare oltre 500 stand. Tutto il compendio oggi è stato al centro di una lunga visita per la stampa di settore. La Villa Storica, gioiello di architettura realizzato a fine Ottocento, nota principalmente come dimora di Lucchino Visconti, al suo interno è stato realizzato anche un piccolo museo dedicato al regista, nel 1986 fu ceduta dagli eredi agli enti pubblici. Oggi è richiestissima per le nozze e soprattutto tra gli stranieri, India, Libano, Sudafrica, Brasile e Russia, le provenienze. Sicuramente il wedding ha avuto un grosso sviluppo, stiamo mantenendo questo trend di sviluppo sul wedding anche per quest'anno. Nettamente c'è una prevalenza di matrimoni stranieri, quindi questo a mio avviso rientra anche in quell'attività tipica di Villa Erba che deve essere di favorire e promuovere il discorso dell'indotto perché tendenzialmente gli stranieri si fermano molto nei mesi comunque estivi, arrivano nei mesi estivi ma si fermano anche per periodi piuttosto lunghi e quindi inevitabilmente questo porta alle ricadute molto positive sul territorio. La stagione registra praticamente il tutto esaurito. Se immaginiamo il discorso weekend e il mese d'agosto direi che noi siamo quasi sold out rispetto a quello che è la periodicità classica. Abbiamo ancora forse qualche piccolo spazio andando un po' verso ottobre se magari qualcuno anche tende ad accontentarsi a non fare proprio sabato e domenica e magari andare su un lunedì o un venerdì o un infrasettimanale. La Villa è stata utilizzata come set di film, basta ricordare Ocean's 12, e per spot pubblicitari come quello dell'Anne Espresso con l'attore americano Lariano D'Adozione e George Clooney. Senza dimenticare poi che i più noti brand italiani hanno scelto questa location per lanciare nuovi prodotti o per meeting aziendali. Tra questi Ferrari, Bulgari, Svaroski, soltanto per citarne alcuni.